Si è tenuta stamane presso il foyer del Teatro Auditorium Unical la presentazione ufficiale della nuova stagione teatrale dell'Ateneo, nell'ambito della rassegna Artau, arti assolutamente urgenti. Un calendario ricchissimo di eventi e di nomi illustri, un piccolo miracolo se si considera l'essiguità dei finanziamenti, come ci tiene a pretissare Raffaele Perrelli, direttore del dibattimento di studi umanistici. Nove gli appuntamenti in programma, dal debutto giorno 12 febbraio con Sabrina Impassatore, che porta in scena è stato così, storia di un amore disperato e geloso, tratto dall'omonimo romanzo di Natalia Ginzburg, fino ad aprile, alternando serate di musica e teatro con artisti del calibro di Toni Servillo, che legge, canta e interpreta l'anima più vera di Napoli, una città fatta di colori, profumi, bellezza, ma anche di miseria. Un'ultima sezione dell'Artau, che si protrarrà fino a dicembre, porta in scena il cinema e prevede rassegni, incontri, laboratori e visioni. Questa nuova stagione teatrale Unical si pone l'obiettivo, in un momento come questo, di generare risorse, attrarre gente del territorio e fornire, soprattutto ai giovani, una proposta culturale nuova. Nel far questo ci presenta un interessante dialogo e connubio tra arti diverse, teatro, cinema e musica, in questa particolare occasione, si incontrano.